Ragazzi, oggi sono una persona seria. Guardate, sono anche vestito con cravatta e giacca. E sono stato convocato anch'io da Presidente Matarella per partecipare alle consultazioni e cercare magari di risolvere qualcosa. Intanto che io salgo in Quirinale, guardatevi un po' di previsioni del tempo che in teoria non sono buone. Previsioni per sabato 5 maggio, al nord in Lombardia, al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, con piogge sparse su Emilia-Romagna e regioni del nord-est. Al pomeriggio ancora possibilità di piogge sparse su Emilia-Romagna, Veneto e Friuli. Sul resto d'Italia al mattino tempo instabile con piogge sparse su Toscana, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale instabilità sui settori tirrenici, più asciutto sull'Adriatico con nubi sparse alternate a qualche schiarita. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Sergio? 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 Non trovo il Sergio, però siete in buone mani, guardatevi. Riuscirò a far splendere il sole anche qui a Roma, come splende sempre su Chrome TV. Asta pronto! Sergio? 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 Grazie per la visione!